È forte l'emozione dei 63 studenti premiati dal FAI. I ragazzi hanno ricevuto gli attestati di Apprendisti Ciceroni per il loro impegno in nome del Fondo per l'Ambiente Italiano durante le giornate di primavera e quelle per le scuole. I giovani sono stati accolti nelle sale della prefettura. È significativa la partecipazione di tanti ragazzi delle scuole nonostante le grosse difficoltà dovute al lungo periodo della pandemia tra lezioni a distanza e classi in quarantena. Ringrazio gli studenti, i loro docenti e dirigenti scolastici per essere rimasti al nostro fianco. È un elemento di grande straordinarietà e i ragazzi si sono dimostrati entusiasti, afferma Alessandra Stipa, presidente regionale FAI Marche. Durante le giornate i ragazzi hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e si sono sentiti direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità. Le giornate FAI consolidano l'impegno per difendere e promuovere il patrimonio culturale del territorio e l'azione di crescita consapevole dei ragazzi. Ringrazio il FAI e coloro che hanno partecipato con passione, aggiunge l'assessore comunale all'istruzione Monica Ciarri. Il termine di apprendisti Ciceroni rivela l'importante funzione sociale dei ragazzi impegnati in questa bella opportunità. Grazie al FAI e alle scuole concure la consigliere comunale Michela Girardi. Presenti gli insegnanti delle scuole il preside dell'istituto Mazzocchi Nazario D'Amato. Questo è veramente un momento particolare perché significa l'educazione che il FAI rivolge ai giovani coinvolgendoli nei suoi progetti. In fase naturalmente pandemica i ragazzi hanno accettato comunque di fare da Ciceroni e questo mi sembra un gesto socialmente molto molto importante. Abbiamo voluto che i ragazzi avessero questo riconoscimento dallo Stato perché i ragazzi sono sempre sui giornali per cose brutte e invece questa volta noi dimostriamo ancora una volta il FAI dimostra che i ragazzi, lavorando sui ragazzi, danno molto. La generosità, il coraggio, la disponibilità e l'amore per il proprio territorio. Il FAI lavora tutto l'anno con i suoi progetti culturali volti a divulgare la conoscenza del territorio, la valorizzazione e a raccogliere fondi per quelli che sono i nostri restauri. È una mattinata importantissima in prefettura, le porte delle istituzioni aperte ai nostri giovani ragazzi, un evento per la pubblica istruzione ma anche un evento per la cultura scolana. Loro sono davvero il veicolo della conoscenza culturale della città e della proposta culturale della città per cui noi siamo stati qui oggi insieme al prefetto, insieme alla presidentessa Stipa, alla professoressa Minola e alle rappresentanze delle scuole medie e superiori della nostra città che ci hanno fatto conoscere i loro progetti che hanno portato avanti come apprendisti ciceroni e hanno oggi conquistato l'attestato che ogni anno viene dato loro per il lavoro che svolgono dall'istituzione FAI.